E' un momento di valuta, non dobbiamo per i previ, ma iniziamo per tutti chi chiede al pert. Il rito della consacrazione dei previ si riuscirà la tradizione della Gesia, ma anche con di le buone di Maravere con i segni e simboli. L'ultima impromettuta solenne con quella che i diacons in alto sulle impende consacrare sia vita alla comunanza che testimoni del Vangelo e annunciadori della Buona Noella. In pass, quel faiante Mattia Vanzo da Moena ha fatto in stadi del Domo di Trento di Dante al Piscop Luigi Brescian e insieme con i compagni del seminario Riccardo Pedrotti. Le passante Anna da Canche per la prima volta, Mattia Vanzo, della parrocchia di San Vigilio in Moena. Eccomi. Nel rito, ora che dò il Piscop, insieme a quei previ, mette la manz sui diacons per domani i doni del spirito senti, in i versi previ, insieme a ventroni. Gli avevano messo la stola e la casola e seggiungo con l'elixent che la manz che toccherà l'Eucaristia. Gli avevano dato il pane e il vino della Messa e sul presbiterio, gli avevano fatto un bracciacollo di pesce da parte di tutta la comunità della Gesia. La comunità di San Vigilio, la musica, il coro rosadino, la Croce Kitchen, l'autorità civile e politica, ma soprattutto con 80 gente di Moena e delle centone di Ciaziole. Sia a comunanza ha voluto fare la festa, se ne fa preve Don Mattia Vanzo, che do dan salute alla Madonna della piccola Gesia del Cianton, le rua finte piazza del Thea. Le chioche l'ombolta Edoardo Felicetti già date il benvenu' insieme con la procuradora Elena Testor. Una piccola defileda sottite ercas de Dasha, al do della tradizione, inscina la Gesia del San Vigilio e fornita su per la messa a Noël. E' un prum rite che ha emozionato il preve façane, ma è inceduta la gente che conosceva Mattia da piccolo in su e che lo ha vedo crescere la fe. Sempre con gli ias grignolenci, Don Mattia non ha fatto nessuna perdizia, da che aveva la tradizione. L'ha dato però la benedizione, che la che per la fe popolera, che l'aveva fatta da un preve Noël, ha un valore particolare. Da un mese a tutti già date una mano, l'estate festa per tutto il paese con la Marena o la clera passa a 400 gente. Buon lourier, Don Mattia. E per un preve nef che rua, ne è tre che rua al traverso di 25 anni. A Pontin, Don Celestino Riz e Don Carlo Crepaz, che dei chiudiz, gli è inviato dalla terra senta, insieme a quei compagni mesi seminari, preve a Sfacen che dismessa Roncone e Caranno.